Ciao Ringo, ciao Giovanni, sono Valentino Rossi, conclusi testa da Valencia, non sono molto soddisfatto del motore della mia Yamaha e perciò i tecnici giapponesi mi hanno mandato un nuovo prototipo e voi che siete due con le orecchie raffinate per i motori, ditemi se secondo voi è roba buona o meno. Sentiamo. Che cazzo è la moto che è? Ciao da Valentino Rossi. Ciao Valentino, Giovanni cos'era? Un compressore? Non lo fai risentire Tocchi, un attimo, Valentino accendi la moto. Che cos'è Giovanni, aiutami. Un compressore. Un compressore che useremo la Moschito's Way, va bene allora ci siamo.